Ciao a tutti, la maggior parte di voi mi conosce, quelli che non mi conoscono mi conosceranno domenica, io faccio parte del direttivo che sono stato votato l'anno scorso, se vi è piaciuto come ho lavorato, rivotatemi, se no va bene lo stesso, perché noi siamo un gruppo, siamo tutti uguali di qua di là, siamo tutti bravi e qualsiasi persona che fa parte del direttivo va bene lo stesso, l'unica cosa che vorrei dire è che il Presidente è quello più competitivo di tutti, nel senso che è incapace di fare tutto, e noi siamo tutti uguali, è come giocare il pallone, Marcello e Pizzo sono quelli più bravi e tutti gli altri siamo uguali, comunque siamo una bella famiglia, cosa potevo dire ancora? E niente, ogni tanto capita qualche inconveniente, qualche contrasto e via che si può risolvere, se no facciamo come Raymond e Sandra, se no che barba e che noi, comunque buon divertimento e ciao a tutti ci vediamo domenica, va bene? Eri bellissima, lasciatelo dire, ed anche stavolta so che non mi crederai, eri davanti a me, davanti agli occhi del bambino, negli occhi del bambino, quelli non li danno...